Mentre Mosca continua a colpire con droni le strutture portuali e industriali di Odessa, Kiev fa registrare un nuovo attacco ad una base militare russa in Crimea. La Russia è pronta a tornare immediatamente nell'accordo sul grano se viene messa in atto la parte che riguarda la federazione russa, lo ha detto il portavoce del Kremlin Dmitry Peskov. Intanto c'è stato un colloquio telefonico tra il presidente russo Putin e quello turco Erdogan per concordare il prossimo incontro tra i due leader a metà agosto.